Domani inizierà la maratona consigliare sull'approvazione del piano regolatore. La Presidente del Consiglio Comunale, Carla Cecatelli, ha indetto tre sedute. Domani il Consiglio si riunirà alle 18.30 con prosecuzione dei lavori alla stessa ora di venerdì prossimo e alle 9.30 di sabato. Tre sedute per consentire ai consiglieri di dibattere ampiamente una delibera che programma il futuro del territorio per almeno i prossimi dieci anni. Ma già prima del Consiglio l'opposizione ha affilato le armi. Infatti, non appena ricevuto l'avviso di convocazione, ha evidenziato quella che ritiene una irregolarità procedurale. Ha ricevuto infatti solo quattro giorni per esaminare tutta l'ingente mole di documenti che è legata alla delibera e in base ai quali anche l'opposizione può dare il suo contributo presentando degli emendamenti. Per evidenziare la sua protesta ha convocato una conferenza stampa alla quale hanno dato il loro contributo i segretari, i capigruppo e i consiglieri comunali della Lega e di Fratelli d'Italia oltre ai rappresentanti dell'Udc e di Forza Italia. Parliamo di migliaia di documenti, di migliaia di tavole per le quali non è data certamente la possibilità in maniera puntuale e precisa di poterne comprendere pienamente i contenuti. Questa è la prima discordanza, è la prima mancanza di rispetto del diritto proprio delle opposizioni e quindi in questo caso della minoranza di poter concretamente e validamente prendere contezza degli atti e poter poi chiaramente proporre gli eventuali emendamenti. Peraltro non sono state prodotte, visto che i documenti sono difformi rispetto ai precedenti che sono stati forniti anche in sede di commissione urbanistica quindi sono stati modificati, con una tabella comparativa la quale avrebbe dovuto necessariamente indicare quelli che erano le indicazioni prima e le modifiche poi. Ora questa possibilità non vi è perché non c'è nessuna tabella comparativa e quindi i consiglieri si ritrovano a dover rianalizzare centinaia e centinaia di pagine di tavole. Non da ultimo è cambiato il sistema di comparazione quindi non è possibile la sovrapposizione proprio per il sistema che è differente e quindi per avere in maniera veramente pratica la contezza di quello di cui stiamo parlando. Noi oggi leggiamo un'accelerazione nei tempi che addirittura cerca di mettere il bavaglio alle minoranze. Questo è inaccettabile e questo è stato il frutto di una scelta di tutto il centro-destra unitamente a tutti i segretari dei quattro partiti nonché ovviamente i consiglieri in primis, i consiglieri comunali che siedono sui banchi del consiglio comunale che ci ha portato a preparare un esposto al prefetto venendo proprio in essere in via principale la lesione dello ius ufficium cioè il diritto dei consiglieri di avere contezza dei documenti di poter prenderne posizione e di validamente poterne adottare i contenuti. Signora Manocchi ma in realtà ci sono poi anche delle critiche che entrano nel merito del piano regolatore che voi già avete? Certo, ci sono chiaramente tutta una serie di dissonanze, di discordanze che entrano poi nel merito del piano regolatore e lo stiamo valutando, lo stiamo analizzando e chiaramente oggi dover fare una sintesi di tutto quello che stiamo verificando diventa pressoché come sto dicendo impossibile perché se l'avessimo fatto oggi avremo contezza di tutto.